Sono Giovanni Aruta della Fitticis della Campania, la vicenda del sindacato da quando i lavoratori dell'Italia praticamente sancita da solo, buttarli fuori dalla produzione, dagli impiegati del centro direzionale, che la regione pure in questa storia ci doveva centrare, sono stati abbandonati e noi siamo stati, nonostante le nostre istanze, loro hanno deciso con i quattordici patrioti che all'epoca il governo di centrodestra andò, ha buttato la gente in mezzo alla strada. Ora ci deve stare un recupero perché non è possibile mandare gli esodati che avevano la pensione e stanno fuori processo 2020, le persone che sono al di sotto di 50 anni e stanno in mezzo alla strada, quindi bisogna avere un recupero di un dialogo certo con la regione e soprattutto anche nell'ambito aeroportuale perché qua ci sono delle aziende in crisi davvero, ATTEC che fa la manutenzione, GH, GESAC, c'è una serie di aziende che sono tutte in difficoltà, però io spero che nel nuovo governo ma soprattutto con la regione di trovare iniziative laddove per aiutare le persone, soprattutto dare risposte concrete.